Ciao mamma La telecamera non è portata La telecamera non è portata Autorizzola di un canzone La telecamera non è portata Mamma signori Oh è il professor è spostato No foto e no video La distanza Distanza di sicurezza Ma che fa? Mi prendete una volta la manca Mi sopporto una mano La manca con una mano Ma mamma Mamma mia volta la manca Gioni salutiamo il finito quest'anno Ma si è a partire? 5 minuti 9 minuti 9 minuti Mulegnana Ora vengo da te Mulegnana Vai a sé ora vengo da te Siamo qui presenti alla festa di Lemmo dei 70 anni di Lemmo Quali 70 anni? Dei 50 anni di Madrimona Ora vengo da voi Oss Professore Io prendo margherita e porto mazzarela Mangi poco perché deve passare lei 6 euro Mangi poco Avviso la pizza Continua Vira la spina 0,4 Ma non ci siamo saliti Ok Ho sentito bene No? Io reggo bene l'occhio Non ti vedo qua Tutto bene Paoli Procede bene la serata Non puoi riprendere questo Non contento del 9 progettazione Ma mi matemi Solo 7 Non ti cambia la media Non lo 7 Ma tu devi ringraziare a terra come fa Ma tu devi ringraziare a terra come fa Non contento del 7 in cantiere Non parliamo di voto Non parliamo di voto Non parliamo di voto Non parliamo di voto Da 10 come è passata a 6 cantieri Non parliamo di voto Non si è mai stato presente nelle elezioni Come fa a prendere Da 10 Da 10 Da 10 è passata a 6 Perché hai un 2 Non l'hai pagato Hai un 2 Come se lo metti voto a nero Tutto bene Paolo Tutto bene Paolo Tutto bene Posso sapere cosa hai preso Per pizza come Uno è un bel piatto vuoto E va bene C'è una cosa Un delizio Ma lei cosa ha preso? Margherita con la mozzarella di bufana Esatto Ci prendiamo i nostri eroi Allora ragazzi tutto bene? Tutto bene? Tutto bene Tutto bene Bene la mascherina va messa in questo In questo sacchetto Ah è il mio Ah è il mio Ah è il mio Ah è il mio Papa tutto bene Ah è il mio Come dire Hai preso l'amicizia con il tuo barbiere o ancora no? Eh no proprio mi sono vestiti Perché penso che il prossimo Anche ancora ti prendete a noi Vabbè vabbè Ditemi di questo ragazzi Ehm Non lo facciamo Questo non è là Questo va su Youtube No lo vediamo Questo lo vediamo Mi fate un saluto a una mia amica che è vostra fan Su Youtube? Eh si 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 chiama Kekka Poncha Che Kekka Poncha Mi ho sentito parlare di questo No No Tutto bene ragazzi Un saluto La parte di Panta Spanta E Maffredino Che pizza prendete? Panta Maffredino Panta Maffredino Questa è la famiglia Panta Maffredino Questo è il tavolo della famiglia Panta Maffredino Questo è il tavolo della famiglia Panta Maffredino Allora ragazzi Cosa prendete? Una pizza Una pizza ragù Io prendo due pizze Una pizza salsicce Maffredino Mamma mia E vedi vedi che stai grossando Un attimo solo per informazione Allora Una pizza chiamata Carrettina E una pizza chiamata Un attimo solo per scusatemi Una gustosa formata da Mozzarella ICP Bologna Sette Chiese Le ordinate di Acero La straceta di Burrata Puglise artigianale Vabbè una cosa leggera 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 Un pia di vino doc del 2007 No vino no Non prendete vino Non nel caso Non tenetevi leggeri Un saluto generale Mi stima e vi ringrazio A buon pazzo Ma fa pe Ma fa pe Ma go C'è una chiesa Ma non so Non so Adesso Adesso Un'altra mia amica Checca Aruta Checca? Checca Aruta Ma voi se non lo sentite questo qua Forse la conosciuta Sì Un pochia toncetta Turbato Thomas Turbato Thomas Turbato Thomas Thomas Turbato E' una città Un pochia lottica E' una cosa E' una città E' una città Imporganizzata Ma c'è da finita No c'è la nostra La nostra Ma no La nostra La nostra È una cosa impegnativa a noi Non so con le melanzane, caccio di orca, parmigiano e quel piatto. Dica che pizza? Ah, però, siamo in questa modalità, proprio lo distingue, ma alla volta si mette, si mette dentro, c'è un bigliettino accanto, ma si mette lino, poi legge, come si vede che è il pezzerino italiano, che è praticamente, un pezzerino, non so, personalizzato. Adesso abbiamo affiuffato un aggettivo, delle espressioni. Io già lo so, non è un aggettivo. Ok, si può provare. No, 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 no. Eh, potete dovere. Non lo facciamo. Ripeto, ripeto. Guardate il pezzerino, guardate il pezzerino, guardate il pezzerino, spiglietto. Allora, uno al lavoro. Legge per le predole. Legge per le predole. Legge per le predole. Adonio Tavarese. Tavarese? C'è tre. All'interno c'è... Se sei un po' staccare, perché ti fa? Scarno! Scarno! Adatta a voi c'è il regalino. Non c'è l'anima. si riesce. Si salva e ci vuole. Si salva e ci vuole. Si salva e ci vuole. Ti salva e ci vuole. Ma si sa che si fai aprire da me, no? Ah, Antonio la... Allora, Antonio la apri un po' di spazio. Ma chi c'è? C'è il paletto. Questo è il paletto. Sshh! Chi ti apri? No, apri bene. No, apri bene. Oh, shh! Ma c'è la pene. Ma già, va bene. Ma già, va bene. Ma poi facciamo un montaggio. E non fa niente, guardate quello che c'è tu. Ma tu rompi sempre, non si rompe. Un orso, un calcio. Questa è discriminazione. Ma già, va bene. Ragone! 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 Innamorato per! Innamorato per! Innamorato per! Innamorato per! Gesù! Gesù! Nascendendo! Sente! Sente! Sostacca il brazzo! Gesù! La testa! La testa! Si bene! Guardate! La testa! E mi sapevo dire! Ora ieri scegliam! Mi sapevo dire! Noi metterei a vuoto però C'è un pezzettino di scotch Donnaiolo Magari Matteo Non è vero Non è vero Come a me Tanti faccio le passate Non è vero 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 Senti pronto E' so punto Però voglio dire anche meno Ma adesso quanto che sei polemico Mi piace Ti è capito Non c'è zicca tanto Non è vero Eai pronto Guarda nei camminati Non è vero Mi sento la foto di classe E' la troppo E' la foto di classe Allora questa è bella Questa è la conferma E' Antonio Paola E' Antonio Paola E' il post Del post Sì, è giusto. Guarda, sei un po' di posto. Sì, è giusto. È giusto. Ida è sezione. Ida è sezione. Come è di Ida? Vadovi. Vadovi. Vadovi questa sera. Vadovi questa sera. Vadovi. 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 principali di Brands. Magero cibi. E allora, sono di lei tanti. E, davine. Da dove, cosa stiamo? Credo che ci stanno stag archeanzate. 할�able. ... combination. Si considero un'altra ricerca. Pericolo, perfettoso. Pericolo, pericolo, il rapporto del tuo sito? Pericolo! Non mi hanno parlato di giornali, c'è, facciamo un povero che stiamo alla fine, siamo da generale. E' un lato inizio su un altro sito, e l'amica d'arrippressore, non faccio buono le confrime. C'è, come mentre si può fare la gente. Sì, come si può fare la gente. Inizio sulle di una classe. Mi dico questa attività. centro a 13 no, mi sto avvicinando oh, però... eh, no, non porre si, ma non so non so che come? perché Julia è una parte per la sua pancia? banca alessi, diosso banca alessi, diosso lanca alzio lo spedizio le hanno accenso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. se ne fanno di martinio ballerino io ballo meglio senza dubbio io ballo meglio vogliamo chiedere alla signorina perché mangio la pizza in questo modo perché non mi piace non ti piace il cornicore ma l'hai tagliata in maniera perfetta sei riuscita a lasciare la inquadri in bocca la volevo vengere il pesce non la volevo vengere il pesce non la volevo vengere il pesce non la volevo vengere il pesce va bene, una pizza tagliata in maniera ma non è un po' pesantuccia con la pizza ma stiamo malati parla questa pizza parla ma cosa c'è? salsicce friarielli maiale salsicce friarielli mozzarella non è un po' pesantuccia non è un po' pesantuccia questa mattina c'è un po' pesantuccia maiale l'olp parla questa pizza la salute non te la mangiare non te la mangiare non te la mangiare io sei un'igienista io si vedo che hai portato il beauty case lo spazzolino dentifricio casomai fuori armario quello è il minimo è il minimo qua sono robato manca lo spazzolino da dentifricio ah quello ci stiamo lavorando la cosa lavora casomai la mascherina nella bustina cazomai però questo è il beauty case che si usa per lo spazzolino il dentifricio le forbicine cos'è? si è mangiato? allora una pizza fritta una pizza fritta una pizza fritta un pedaglio una fetta di pizza fritta un pedaglio fai un metro tutto il pedaglio che fai? un metro un metro un metro ci sono io e Simone mi ha messo con un numero quante mangiare questa la torta questa è la grandissima torta con questa grandissima frase questo è il professore un po' ingrassato che non c'entra nel telefono non c'entra nel telefono non c'entra nel telefono benissimo il professor Cicchiello la professoressa Pediatiti il professor Mauro la professoressa Caldieni grandissimo professor Balzano chi è questo? questo signore? è arrivato un messaggio su messaggio questo signore chi è? ho paura questo è il professore ultimanti qua direi a Mopredino fa una foto e si se ho avuto allora questa questa candela è un po' minacciosa se ne avessi un candelotto per la foto che è il codosso esplosivo ti ha abbracciato la mia il passato è il passato il passato pansì era il passato lo so non so non so non so ne so non so questo è il bellissimo corsello legato con la crata e non bene abbottonata con questa bellissima camicia scusate con questa bellissima camicia sondaggio in live questi sono i ragazzi della quinta la professoressa ragazzo con il grande poglio non ti sento una più forte questo è grandissimo primo piano va bene non ci dimentichiamo la professoressa pedalitis molto elegante guardatela molto elegante sempre in tema il professore sempre con giacca e cravatta molto bello con l'unico con la mascherina tra l'altro ho preso il permesso ho preso le chiavi non mi permetterei forse grazie a tutti Grazie a tutti.